Noi stiamo dando il massimo per questa maglia e siamo contenti che la gente ci stia vicino, però penso che ora è facile starci vicino e tifare per l'Italia, però noi siamo contenti perché vuol dire che stiamo dando tanto per questa maglia e per la gente. Noi cercheremo sempre di dare il massimo e di continuare a farli sognare come stiamo facendo noi in queste partite. Il mister ci sta trasmettendo la sua grinta, quella che c'era in campo e soprattutto quella che ora mette da allenatore. Noi lo stiamo seguendo nei minimi dettagli perché ci sta insegnando tanto e noi la grinta che ci sta dando la stiamo mettendo in campo come degli assatanati e cercheremo sempre di portarla fino in fondo. Quando vengo chiamato in causa cerco di dare il massimo e di mettermi a disposizione dei miei compagni, poi se arrivano le giocate qualche gol non mi dispiacerebbe, però l'importante è quando uno entra in campo di dare il massimo, poi per vincere le partite l'importante non è chi segna, ma l'importante è che arriviamo alla vittoria e andiamo avanti. Questa è sempre stata la nostra forza dall'inizio, non siamo invidiosi nessuno dell'altro e chi segna segna non importa. Grazie. Grazie a tutti.